Carta la carta, carta la carta Mili accendini, facci sognare Ciao, mitici Siamo con Alessandro in un nuovo mitico unboxing Ciao ragazzi Sono arrivati un sacco di scatolette da Amazon E andiamo a vedere di cosa si tratta ragazzi Incredibolo Allora abbiamo preso 60 tardi dei Nerf Mega per fare una prossima battaglia mega perché ci avete riempito di like Quindi ringrazio Alessandro Grazie mille Fagli vedere che sei Però ragazzi Arriviamo a 500 like Per avere un nuovo video Nerf Un nuovo unboxing Nerf Dai ragazzi O battaglia E andateci a seguire su Instagram Mili accendini Questi tardi Vediamo se sono quelli che si illuminano Batto No ragazzi Non si illuminano Io per sbaglio Senza volerlo Perché neanche lo sapevo Avevo comprato alcuni che sbattendoli Si illuminano Ma l'avevo presi su Aliexpress Invece stavolta L'ho comprati su Amazon Chiaramente non originali Per risparmiare costano di meno Visto che noi ne usiamo tanti E poi si perdono E poi si perdono Allora andiamo un pochettino Risparmiando Comprando quelli da non originali Comunque mettiamo il link Amazon ragazzi In descrizione Andiamo a vedere Un altro pacchetto Che ti è arrivato E poi ci avremo colpo di scena Raga Non andate via Non ci abbandonate raga Guardate L'attacca panni col dito No ragazzi Guardate la bandiera pirata Ma chi mi ha messo così? Ma chi è che non si mette Vado in saccoccia? Allora apri quest'altro pacchetto Dai fai vedere Di che si tratta? Di colpi e ditte L'abbiamo già usato Come vedete tre pacchetti Ma qua c'è un intruso Abbiamo già usato tre pacchetti Nella battaglia Ogni pacchetto Dovrebbe essere Di almeno dieci proiettili Avete visto l'ultima battaglia Ma ne faremo altre Se ne andate a vedere Mettete tanti like E andiamo Al colpo di scena Di oggi raga Vai Libera tutto Mette tutto a posto E cominci a cantare La canzone ci deve far capire Che arriva il momento epico Scarta la carta Scarta la carta Mille centini Facci sognare Facci sognare Intanto andiamo a vedere Che cos'è Sbirciatina Fammi sbirciare Di lavori Oh mamma mia Un'erbe mazza fionda raga Non ce l'avevamo mai avuto Facci vedere sto minchione La faccia del minchione Tutto contento Che tirare la mazza fionda raga Vuoi andiamo a vedere Vuoi andiamo a vedere qua Vuoi di andare l'energista Andiamo a vedere qua Vuoi andiamo a vedere qua Vuoi di stare l'energistata I want you for like ragazzi mettete like a questo punto del video perché siamo arrivati al momento in cui ci guardiamo la scatola ora qui col cortedum col cortedum non è che faccio pensare allora adesso qui la parte tosta guarda questa è già attaccata questa qua questa quella dopo 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 guarda sicuramente la infili dopo prima infili questa qui dentro poi ci sarà uno scatto bello forte metti dentro ai spegni con decisione dai 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 adesso è per sempre sempre per sempre sempre per sempre no alessia questo devi fa passare la corda qua dentro nota lo fai passare avanti e poi e qui c'è lo spazio per la corda no da dentro il buco e metti dentro qui dentro quel buco questo questo c'è pollice mio metti qua metti qua dentro dai e metti qua dove dico io e dai adesso con tutto quello papà allora io ne so di lavare che ha pressione facile facile troppo a mette un dardo ti ci danno già due tardi due tardi originale allora vai quindi quando tu metti dentro guarda da qua non si può tirare invece da quando tu metti dentro si può tirare tira tira mazza che schicchera vai vieni qua voglio perdere un colpo guarda cosa vuoi fare 50 miliardi vai di là vai di là carica e sparami dai vediamo un po apri i proiettili carica e sparica carica e sparica al telefono vai bella mira riprova dai piano in altro vai apri qualche proiettile che figata raga ma è fighissima raga se non parla è perché sono impressionato è troppo figa no papà no ho scoperto una cosa troppo figa puoi tenere due colpi oh ma era partita la registrazione ma poi vedi ah carino carino raga qui eh due colpi andiamo qua a dettaglio questo che noi io gli amici miei siamo molto artistici possiamo metterli pure qua dentro un po forte non vedi che non viene la cosa quando metti il nerf puoi tirare punta il telefono punta il telefono vai devo scoprire ancora qual è la mira oh fai vedere questo valessa adesso dai concludiamo il video però facciamo vedere se gli può piacere il prossimo video facciamo un pezzettino di questo qua allora ragazzi volevamo fare abbiamo scoperto che sta con te c'è il rilassante vieni qua vieni qua vieni qua valla qua buildersè guarda con le mani fai per la prova vado? si la realtà sembra quasi uno squisci è rilassante che dite se facciamo un video di rottura della corteccia guarda se siamo troppo veloci no secondo me è mai più piano però ci vuole un microfono buono che non si sente il rumore però secondo me è rilassante vabbè preso un po' di umidità scrocchia di meno scrocchiava di più quando l'abbiamo presa al mare questa corteccia adesso la mettiamo qua così almeno ci fa il concime ok salutale eh no così fa il casino vabbè salutale ragazzi un prossimo video se volete i video dei nerf elite omega guardate che fighi la balestra è troppo bella ragazzi ma o se no anche i video dei nerf fortnite che sono usciti i nerf fortnite va bene ditecelo su i commenti su instagram su instagram ci capiamo mille accendini ciao ragazzi ciao